Ho preso un risultato al di sopra di tante aspettative, ero candidato, ci avevo due corazzate di bianco e sono molto contento dell'affermazione di una grande, poi credo, mobilitazione democratica e adesso penso che il centro-sinistra deve andare avanti con un unico punto, vincere le elezioni di giro. Quindi si sarà a Sala? Senza se, senza ma, credo che non ci debbano essere neanche dubbi su questo. Bazzani però ha detto che sarebbe stata un'altra storia se fossimo stati assieme. Dal punto di vista aritmetico mi pare ormai una sciocchezza visto il risultato di Sala, che è comunque un risultato significativo. Dal punto di vista politico siamo di fronte a tre proposte distinte ed è bene così. Adesso però c'è un candidato e c'è il centro-sinistra-nizio. Sono contento e soddisfatto, adesso però continuerò a essere un po' quello che pungola sui contenuti perché sul riscatto sociale, diritti, voglio un centro-sinistra più combattivo, non solo a Milano ma anche a Roma.